Il mondo non si guida di nessuno, tanto meno delle banche. E' per questo che ho tutti quanti i soldi nascosti dentro una cassaforte. Ma dove si trova esattamente questa cassaforte? E questo lo devi scoprire in te Bianca. E sono i miei amici che raccontano cosa ho bisogno. Sì. Doi prendere i miei vestiti ora? Sì. 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 I play in movies. Machista in hell. Machista against the Mongolians. Ma che è prima di che erano. Non è così facile come credi Dio. You are beautiful. Aren't you afraid of me? I'm not afraid of anybody. Ti sta innamorando e ti sta dimenticando del piano. Mi amo, mi amo. Well, at the beginning, we're all good. And then at some point, we all turn bad. If you had to kill someone, who would you kill?